Ciao a tutti e bentornati a Pidole di Storia, anzi bentornati alla nostra per ora mini un giorno maxi serie Imperatores dedicata agli imperatori, agli imperatori dell'impero romano che racconteremo puntata dopo puntata, una puntata a testa proprio per raccontare lo sviluppo, la crescita e poi la caduta dell'impero attraverso le figure che maggiormente lo hanno caratterizzato. Ebbene, la puntata di oggi è proprio un po' il simbolo di questa serie perché oggi dopo aver raccontato 5 imperatori che sicuramente tutti conoscevate e che hanno avuto vite relativamente lunghe, interessanti, approfondite anche dagli storici normalmente, oggi invece ci addentriamo in un imperatore che ha regnato pochissimo, appena 8 mesi, di cui raramente si parla ma che soprattutto di solito viene semplicemente nominato come uno degli imperatori del cosiddetto Anno dei Quattro Imperatori, tra poco ne parleremo approfonditamente. Sto parlando di Servo Sulpiccio Galba. È un uomo molto interessante, con una vita complessa, che addirittura diventa imperatore a 70 anni e che quindi ha vissuto gran parte della sua vita prima della porpora imperiale. Ma dato che non siamo qui a raccontare la storia dell'impero romano ma dei suoi imperatori, Galba è il perfetto esempio di quello che è questa serie. Avete capito benissimo, Galba divenne imperatore che aveva 70 anni, era nato infatti nel 3 avanti Cristo, quindi aveva vissuto la sua vita sotto tutti gli imperatori precedenti, era nato e cresciuto sotto Augusto, aveva iniziato ad avere i primi incarichi perché come vedremo ha avuto un lungo cursus honorum sotto Tiberio e soprattutto sotto Caligola, pensate che sotto Claudio si era addirittura già ritirato dalla vita politica per poi essere richiamato da Nerone e quindi prendere potere ovviamente dopo la sua morte. Con la storia di Galba, che tra poco inizieremo, inizia un piccolo trittico dedicato al cosiddetto anno dei quattro imperatori, di cui appunto i primi tre imperatori come vedremo regneranno veramente per pochissimi mesi a testa. Galba, Otone, Viteglio. Li sentiremo già nominare, ma questo è ovvio perché il tempo è quello, già durante questa pillola li approfondiremo nelle prossime, anche per far vedere come ognuno di loro abbia origini e anche un modo di prendere potere diverso l'uno dall'altro. E poi ovviamente chiuderemo con il quarto imperatore, cioè Vespasiano, che dà la vita alla dinastia dei Flavi e che ovviamente regnerà invece per molto più tempo ed è quindi fuori da questa logica. Ad ogni modo, Galba finalmente, posso dirlo, non fece parte della dinastia dei Giulio Claudi, quindi possiamo, qualcuno dirà purtroppo, qualcuno dirà fortunatamente, mettere da parte quel gigantesco albero genealogico che nelle ultime puntate vi avevo portato ad approfondire proprio per posizionare i vari imperatori nell'albero genealogico dei Giulio Claudi, anche perché non esistono più, dopo la morte di Nerone, dei successori di sesso maschile facenti parte di questa genealogia. Galba proveniva comunque da due famiglie molto molto nobili. Intanto l'Agenze Sulpiccia, che era probabilmente a un livello di nobilità simile a quello dei Giulio. L'Agenze Sulpiccia si pensa che facesse parte delle famiglie nobili di Roma fin dall'inizio della Repubblica, quindi veramente antichissima, tanto da essersi poi progressivamente divisa in tanti rami, tra cui Galba faceva proprio parte del ramo dei Galba. In questo termine non sappiamo benissimo da cosa origini. Qualcuno dice che possa originare da un termine per indicare i galli, qualcuno che possa invece originare da un insetto, qualcun altro addirittura da un colore, una specie di misto tra il giallo e il verde, diciamo quasi un verde militare, adesso non saprei neanche spiegare, anche perché io sono dal tonico, quindi lasciamo stare. Ad ogni modo, non era solo nobile da parte di padre, ma anche da parte di madre, perché veniva dall'Agenze Mummia, i Mummi, che avevano dato a Roma negli ultimi secoli molti comandanti generali, tra cui un suo antenato era stato colui che aveva guidato le armate romane alla conquista e alla distruzione di Corinto. Questo per farvi capire come Galba non sia sbucato dal nulla, non sia un uomo nuovo uscito da chissà quale cassetto al comando delle sue truppe, tutt'altro, era un uomo nobile che faceva parte del Senato, di cui avevano già fatto parte moltissimi i suoi antenati, anche con incarichi di prestigio, era stato console suo padre, era stato console suo nonno, e questo complicato albero genealogico, che fortunatamente non andremo ad approfondire, lui stesso, Galba, amava ricordarlo, e secondo quanto scrivono gli storici romani, l'aveva addirittura fatto rappresentare su una grossa parete del suo palazzo di Roma, facendolo andare indietro, indietro, indietro nel tempo, fino a cercare anche dei veri e propri antenati mitologici, che lui identificava da una parte in Giove e dall'altra nella moglie di Minosse. Galba, come tutti gli uomini, i giovani nobili di Roma, membri della classe senatoriale, aveva molto presto iniziato ad assumere incarichi di prestigio, e come dicevo prima, pur non facendo parte dell'agence Giulio Claudia, aveva vissuto una vita strettamente intrecciata alla famiglia imperiale, d'altronde non poteva essere diversamente, anche perché se si volevano incarichi di prestigio, e soprattutto si voleva rimanere vivi, era necessario proprio rimanere legato a chi era al potere. In particolare, secondo alcuni storici, uno dei principali sponsor della sua salita al potere fu Livia Drusilla, che se vi ricordate era la moglie di Augusto, e che, anche dopo la morte del marito, era rimasta una delle donne più importanti e potenti di Roma. Pare che Livia Drusilla avesse molto sponsorizzato la sua salita al potere, i suoi primi incarichi che gli erano stati affidati da Tiberio, appunto il figlio di Livia, tanto alla morte, d'aver deciso di lasciargli in dono 50 milioni di sesterzi. 50 milioni di sesterzi che però Galba non vide mai, perché Tiberio, geloso della cosa e volendo incamerarli lui, prima li fece ridurre ad appena 5 milioni, quindi ridotti a un decimo, e poi decise di non farglieli mai concedere. Immagino che Galba non si fosse mai lamentato, perché Tiberio non solo era imperatore, ma era una persona che sapeva come uccidere la gente, pare che fosse anche abbastanza incline a farlo, e quindi era meglio evitare qualunque scontro. Ad ogni modo Galba ebbe modo di rifarsi, perché sotto Tiberio e poi sotto Caligola ancora di più, gli iniziarono ad essere affidati tutta una serie di compiti, prima di tipo politico, sarà governatore in Aquitania, poi governatore in Africa, e quindi anche di tipo militare. Sarà infatti mandato da Caligola a spegnere la rivolta guidata da Lentulo delle armate e distanze in Germania. Se vi ricordate la pidola su Caligola, aveva subito questa rivolta, e volendo tra l'altro utilizzare quelle armate per una sua campagna, aveva mandato proprio Galba a spegnere la rivolta. Cosa che Galba aveva fatto, peraltro meritandosi, chiaramente, ma questo lo raccontano gli storici romani, che sapete tendono a essere un pochettino di parte, meritandosi comunque l'appellativo di essere un uomo duro, molto freddo, molto fedele ai suoi principi, e anche un po' avaro. Cosa che a Roma non era molto apprezzata. Come vedremo anche tra poco condizionerà la sua vita da imperatore. Ad ogni modo, il suo cursus honorum, questa in realtà, più che cursus honorum, la sua carriera politica, continuerà sotto Caligola, e poi anche sotto Claudio. Si dice che Claudio lo apprezzasse moltissimo, anche se, secondo alcuni, sono semplicemente dei pettegolezzi, soprattutto perché, alla morte di Caligola, quando il nostro Galba si trovava al comando delle sue truppe in Germania, pare che molte di quelle truppe gli avessero proposto di essere guidate a Roma e di dare a lui il potere imperiale. Cosa che invece Galba aveva rifiutato, giurando molto presto fedeltà a Claudio. Cosa per cui Claudio pare che fosse a lui riconoscente, anche se, secondo alcuni, è semplicemente una leggenda, senza alcun fondo di verità. Anche perché, come vi ho raccontato, molto importante, all'epoca ancora di Claudio, era la questione del sangue di Augusto, e quindi era difficile pensare che in presenza di un vero successore di Augusto, qualcuno potesse cercare un imperatore esterno. Ad ogni modo, c'è questa leggenda. Con Claudio, per un certo periodo, Galba, secondo quanto viene raccontato, avrebbe addirittura quasi condiviso una moglie. Galba, in effetti, era già stato sposato. Aveva stato sposato una donna che si chiamava Lepida, che era morta senza lasciargli figli, e dopo la sua morte aveva deciso di non risposarsi, quando, ormai già abbastanza in là con gli anni, era stato avvicinato da una donna, giovane, di nobile famiglia, bellissima, che già era stata sposata, e aveva con sé un figlio, che gli aveva proposto di sposarla. Quella donna era Agrippina, la madre di Nerone, la quale però si vide assolutamente respinta da Galba, secondo alcuni, perché questi già sapeva che Claudio le aveva messo gli occhi addosso, di fatto Agrippina diventerà la quarta e ultima moglie di Claudio, nonché probabilmente la donna che lo uccise, secondo altri, invece, perché in realtà Galba, nonostante la moglie, non aveva nessun interesse nelle donne, preferendo invece quella dei giovani uomini, dichiaratamente omosessuale. Peraltro, vi faccio notare una cosa, che se andate a leggere attentamente gli scritti latini, in particolare Svetonio, noterete quella che era la grande differenza per i romani tra gli omosessuali. Ora, come voi sapete, tra le classi dominanti a Roma, soprattutto in epoca imperiale, prima dell'avvento del cristianesimo, l'omosessualità era assolutamente tollerata e accettata, fortunatamente, pensate a quanti imperatori precedenti avessero avuto degli amanti uomini, Nerone, Tiberio, in maniera assolutamente chiara e ufficiale. Era tollerata a patto che l'uomo di potere, imperatore e senatore, avessero un comportamento attivo durante il rapporto sessuale. Quando Svetonio ci va a parlare di Galba, del suo rifiuto di Agrippina e degli uomini con cui amava accompagnarsi, dice invece che Galba preferiva uomini più grandi, quindi non proprio dei giovinetti, forti, vigorosi e sembra quasi proprio sottolineare il fatto che invece potesse avere un comportamento passivo. Lo fa capire vagamente tra le righe. Ora, fa ridere, visto con gli occhi di oggi, ma all'epoca, per i romani, quello poteva essere considerato un insulto. È interessante notare come siamo dovuti passare da un insulto così specifico che oggi facciamo quasi fatica a comprendere al considerare l'omosessualità in generale un insulto per tanti secoli, quale che sia al motivo, la morale, cristiano, quel che sia, fino ad oggi che fortunatamente l'omosessualità smette di essere un insulto e diventa una condizione normalissima e accettata. Ma chiudo qui, questo piccolo inciso era una cosa carina che volevo farvi notare. Ad ogni modo, Galba, come dicevo prima, già durante il regno di Claudio ad un certo punto si era ritirato. Qualcuno dice proprio per l'opposizione con Agrippina, qualcun altro dice perché aveva raggiunto i limiti di età. Ad ogni modo, a richiamarlo al potere, a richiamarlo dagli ruoli di responsabilità, sarà invece proprio successore di Claudio, cioè Nerone, il quale lo spedirà a fare il governatore in Spagna, dove lo ritroviamo tra 67 e 68 d.C., quando l'impero di Nerone inizia a traballare. Come vi ho raccontato nella scorsa puntata, nel caso andatevelo a rivedere, se non ve lo ricordate, trovate in descrizione, lei link alla playlist, negli ultimi anni dell'impero di Nerone il suo potere, soprattutto sulle province, sui senatori e sui generali, aveva iniziato fortemente a traballare. Le motivazioni erano tantissime, Nerone aveva iniziato una vera e propria campagna per eliminare chiunque potesse opporvi, si aveva, diciamo, condannato al suicidio, per così dire, molti senatori, molti generali, inglobandone peraltro spesso le sue sostanze, inoltre aveva creato moltissimo malcontento a livello provinciale, perché per pagare le spese della sua corte, ma anche la ricostruzione di Roma e di Lugdudum che erano bruciati in un incendio, aveva fortemente aumentato le tasse. Queste due cose, saldandosi, avevano creato un fronte che guidato da Vindice, Vindice, comandante e governatore nella zona della Gallia, avevano creato un fronte antineroniano. La ribellione di Vindice era appunto nata da questa saldatura, con le truppe romane che lo avevano acclamato come loro guida e i nobili Galli che si erano uniti a lui proprio contro queste pesantitasse imposte da Roma. Vindice però non aveva deciso di autoproclamarsi imperatore, tutt'altro, aveva fatto invece una bossa molto intelligente, aveva contattato Galba, governatore in Iberia e aveva offerto a lui la carica di imperatore a patto che unisse le sue truppe a quelle galliche. Galba in realtà aveva rifiutato o meglio aveva rifiutato la carica di imperatore ma aveva accettato di unire le sue truppe a quelle della rivolta dicendo che le avrebbe guidate in nome del popolo romano e del senato. Le cose non erano andate benissimo subito perché Vindice era stato affrontato e sconfitto dalle truppe in Germania guidate da Ruffio era morto e questo aveva quasi posto fino alla ribellione prima che nascesse. In realtà la ribellione era poi riuscita grazie a manovre di palazzo come vi ho raccontato a Roma era stata diffusa la notizia che Nerone fosse scappato in Egitto in realtà era scappato in una villa e così il senato mentre Nerone si suicidava aveva deciso di eleggere un nuovo governatore un nuovo imperatore e questo imperatore sarebbe stato proprio Galba. Quando l'8 giugno del 68 Galba con le sue truppe provenienti dalla Spagna insieme a quelle provenienti dalla Lusitania guidate da Otone ovviamente sto parlando del suo successivo imperatore giunse a Roma per diventare appunto imperatore dimostrò però ben presto di non aver probabilmente capito realmente nulla di come si mantenesse il potere imperiale. I motivi potrebbero essere tanti secondo alcuni autori uno dei motivi era che Galba era realmente convinto che fossero stati gli dei a dargli quel potere vengono raccontati degli aneddoti che vengono fatti risalire allo stesso Galba come se li raccontasse lui sul fatto che prima di prendere il potere prima di decidere per la rivolta una mula di una sua tenuta avesse partorito voi sapete che le mule non possono partorire non possono avere figli cosa che aveva spinto a pensare a un grande cambiamento ma poco prima che intraprendesse la ribellione pare che fosse arrivato un carico di armi misterioso su una nave senza alcun marinaio che era approdata proprio in Spagna oppure lo stesso Galba racconta di come la dea fortuna in persona gli fosse apparsa in sogno dicendogli che sarebbe stato il nuovo imperatore queste leggende a parte è molto più probabile che un uomo di 70 anni ripeto Galba quando preso il potere aveva 70 anni ormai non potesse più cambiare i suoi usi costumi per una città Roma da cui era stato per così tanto tempo lontano usi costumi che qualcuno vedeva rappresentati anche fisicamente nel suo corpo un uomo anziano con gli occhi ancora chiari e molto molto freddi un naso a punta lo vedete qua nella ricostruzione forse Svetogno fa addirittura una ricostruzione ancora più cattiva di lui un uomo talmente anziano da avere le mani e i polsi piagati dalla gotta e dall'artrosi tanto che si racconta che facesse fatica a tenere in mano persino i documenti ad ogni modo fin dall'inizio dimostrò di non essere in grado di farsi degli amici né tra i senatori né tra i soldati né tantomeno nel popolo romano che all'inizio aveva qualche dubbio nell'acclamarlo imperatore dato che come vi ho raccontato a differenza di quello che si pensa molto probabilmente il popolo romano amava Nerone per tutto il cibo il denaro che veniva dispensato proprio alla cittadinanza ecco da questo punto di vista Galba dimostrò di essere esattamente l'opposto secondo quanto viene raccontato infatti la sua convinzione era pari solo alla sua avarizia che si dimostrò fin da subito verso i pretoriani gli uomini che dopo tutto avevano guidato la rivolta a Roma che aveva fatto cacciare Nerone che poi era morto e gli aveva dato il potere quando arrivò a Roma si vide venire incontro un infiglio Sabino che dei pretoriani era il capo il quale dopo averlo acclamato imperatore gli aveva presentato il proprio conto dicendo di aver promesso ai suoi uomini un lauto pagamento in denaro per quello che avevano fatto Galba a differenza degli imperatori precedenti si rifiutò di onorare quel pagamento dicendo che lui i soldati gli sceglieva ma non li pagava e quando Sabino cercò di ribellarsi per sostituirlo come imperatore fece schiacciare la ribellione uccidendo e sostituendo appunto lo stesso Sabino ma questo trattamento non lo riservò solamente i pretoriani lo riservò a tutto quel sistema militare che Nerone aveva creato a sua protezione a Roma fece mandar via senza pagare la guardia germanica che aveva appunto protetto Nerone fece mandar via e in alcuni casi anche attaccare e uccidere alcuni gruppi di soldati che Nerone aveva posto a protezione della città ad esempio un gruppo di marinai a cui Nerone aveva dato il diritto di non remare sulle navi ma piuttosto di essere una vera e propria corte cittadina cosa che Galba aveva e tolto questo diritto e quando questi si erano rifiutati non aveva pensato niente di meglio che di mandagli contro la cavalleria per farli massacrare tutti questi avvenimenti iniziarono rapidamente a rimbalzare per la città così come iniziarono a rimbalzare i racconti su quanto fosse avaro tanto che si raccontava che addirittura nonostante passasse per essere un uomo che amava i piaceri della tavola in realtà quando si era dovuto tenere un grande banchetto con molti invitati senatori si era rifiutato di pagarlo anzi arrabbiandosi moltissimo con tutti coloro che avevano sperperato tutto quel denaro per un banchetto non destinato a lui ma destinato ad altri secondo quanto racconta Svetonio addirittura al suo passaggio la gente il popolo ma anche soprattutto gli attori cantavano una piccola canzone un'aria di un'opera probabilmente una commedia che non ci è giunta e quindi non sappiamo esattamente di cosa parlasse che si chiamava Giunge Onesimo dai Campi ora chi fosse questo onesimo ripeto non lo sappiamo ma è probabile che fosse un contadinotto arricchito ma molto avaro che arrivava proprio in città perfetto esempio di come i romani vedessero Galba il grosso problema però per Galba non fu ovviamente quei pretoriali non fu con il popolo ma fu con il senato cioè quella che era la sua vera e propria fonte di potere perché ben presto Galba iniziò a scontrarsi anche quei privilegi che il senato aveva che nonostante si fosse sempre lamentato di Nerone nonostante fosse stato in opposizione a Nerone organizzando anche numerose congiure contro l'imperatore precedente aveva però da questi ottenuto tutta una serie di agevolazioni economiche e fiscali agevolazioni economiche e fiscali che Galba si affrettò a cancellare così come si affrettò a cancellare anche i donativi per le truppe distanza lontano da Roma in particolare per le truppe germaniche che avevano combattuto contro Vindice quelle che erano guidate da Rufio e che ora invece erano guidate da Viteglio esatto tra due imperatori come vedete sono tutte sintetizzate sono tutti riuniti nello stesso periodo storico il primo gennaio del 69 dopo Cristo la situazione raggiunse il totale punto di rottura le truppe germaniche infatti si ribellarono e come si erano ribellate loro si ribellarono altre truppe in giro per l'impero e tutte mandarono dei messaggi a Roma al senato affinché Galba venisse deposto e sostituito da un altro imperatore altro imperatore che in realtà le truppe germaniche avevano già scelto proprio nella persona di Viteglio che era il loro comandante ovviamente il senato tentennò ma Galba iniziò a sentirsi mancare la terra sotto i piedi e proprio per questo decise di fare una mossa che a suo parere avrebbe dovuto aiutarlo a riguadagnare il consenso del popolo scegliere un successore ora Galba negli otto mesi che era stato a Roma aveva dimostrato di avere degli uomini di fiducia che aveva messo nei ruoli più importanti ad esempio Vigno Lacone Icelo che peraltro probabilmente era anche il suo amante che aveva cercato di mettere a capo della guardia pretoriana e soprattutto dell'apparato amministrativo anche in questo caso scontentando la classe senatoriale e chi fino a quel momento aveva mantenuto il potere nessuno di questi uomini però sembrava adatto per sostituirlo e per molti l'erede naturale di Galba sarebbe dovuto essere proprio Tone che era molto più giovane di lui e che aveva partecipato fin dall'inizio alla sua rivolta purtroppo per Otone però Galba aveva un'altra idea la sua idea fu quella infatti di scegliere un giovane nobile romano Lucio Calpurnio Pisone il quale era molto giovane ma soprattutto considerato da Galba molto adatto a sostituirlo per governare c'era solo un problema che non aveva tutto questo potere e questa mossa non fece nient'altro che alienarli la protezione dell'ultimo vero amico aiutante per così dire che aveva Ceotone il quale secondo quanto viene raccontato era piagato dai debiti era convinto di succedere a Galba e quando si vide privato anche di quest'ultima possibilità decise di agire i primi giorni di gennaio i 15 gennaio del 69 dopo Cristo Galba venne infatti attirato fuori dal suo palazzo con l'inganno alcune delle truppe di stanza Roma fedeli ad Otone perché provenienti dalla Lusitania infatti iniziarono a diffondere rapidamente per la città la notizia che si erano ribellate e che avevano nominato proprio Otone come successore di Galba a questo punto l'imperatore decise di uscire e accompagnato dalle sue guardie si fece recare nel foro per cercare di giungere in senato e di impedire questo colpo di stato ma appena uscito dal palazzo venne avvicinato dalla guardia pretoriana che non gli aveva perdonato lo sgarbo alla sua salita al potere venne tirato fuori a forza dalla sua rettiga e venne ammazzato nelle ore successive vennero ammazzati anche i suoi compagni venne ammazzato Vigno che da qualche giorno era anche console con lo stesso Galba venne ammazzato Icelo il suo amante venne ammazzato lo stesso Pisone la cui testa insieme a quella di Vigno e a quella dello stesso Galba saranno esposti su una lancia proprio a dimostrare il nuovo potere di Otone dei loro corpi sarà fatto scempio si dice che le loro teste vennero letteralmente vendute ai parenti delle vittime quella di Galba sarà pagata da un liberto di un senatore che era stato fatto uccidere proprio da Galba qualche mese prima ed era stata gettata nel luogo dove il suo padrone appunto era stato ucciso il nuovo imperatore Otone preso il potere decise per la damnazio memoria pro memoria proprio di Galba damnazio memoria che però non sarà completata difatti come avete visto abbiamo dei reperti che ci raccontano della faccia del volto di Galba anche perché sarà poi interrotta e la sua memoria ripristinata sotto il regno di Vespasiano Otone che lo sostituirà come sapete avrà un regno ancora più breve ne parleremo nella prossima puntata un regno che sarà poi interrotto proprio da quel vitellio che il primo gennaio si era ribellato in Germania che da questo momento inizierà la sua marcia verso Roma per prendere il potere la storia di Galba come dicevo è una storia particolare la storia di un uomo che aveva vissuto tutta la sua vita a servizio dell'impero ma che probabilmente nel momento in cui si trovò alla carica più importante fu del tutto impreparato a gestire ormai troppo anziano per cambiare le sue abitudini troppo anziano per pensare che il suo potere si dovesse reggere su un equilibrio di poteri con gli altri uomini importanti di Roma che l'avevano aiutato troppo anziano per accettare di venire a patti con una politica corrotta come quella romana per mantenere il potere forse come dice come raccontano gli storici romani aveva ragione suo nonno anche se devo essere sincero questa citazione temporalmente faccio fatica a capirla il quale aveva detto che un imperatore sarebbe uscito dalla famiglia Sulpicia solo quando una mula avesse partorito come vi ho raccontato si dice che una mula in realtà avesse partorito ma non per questo un buon imperatore era arrivato a Roma io mi fermo qua spero che questa pidola vi sia piaciuta ho cercato di raccontarvi tutta la vita ma come vedete il periodo da imperatore è molto breve come al solito ho cercato di raccontare le due versioni sia quella degli storici latini che abbondano sempre di particolari diciamo negativi verso questi imperatori sia quello che si cerca di ricostruire attualmente con le ricerche storiche tenete sempre presente che ovviamente sono purtroppo dati parziali perché le informazioni che abbiamo sono parziali anche perché parliamo di un'epoca molto antica quasi 2000 anni fa le cui informazioni più chiare cioè appunto le cronache hanno questo problema il classico problema degli storici latini che normalmente come dicevo prima inquadrano un uomo gli danno un proprio giudizio e poi raccontano solo avvenimenti per giustificare quel giudizio anche per Galba vale la regola di essere enunciato come un uomo i cui vizi superano le virtù e ancora una volta sto citando storici latini ad ogni modo io mi fermo qua spero che questa pidola vi sia piaciuta nel caso iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per non perdervi le prossime tra cui le prossime puntate di Imperatores che tornerà fra due settimane e come al solito vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista ormai ha la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco ci delenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo fra due giorni con una nuova pillola di storia sarà una pillola di giochi vedrete e ci vediamo fra due settimane con la prossima puntata di Imperatores a presto ciao ciao ciao